Aiutare l'ambiente e consentire ai cittadini catanesi di risparmiare ottenendo gratuitamente biglietti di viaggio da utilizzare sui mezzi AMT in cambio della consegna di bottiglie in plastica. L'obiettivo dell'iniziativa ricicla e viaggia promossa dall'azienda metropolitana Trasporti di Catania, sostenuta dall'amministrazione Pogliese e realizzata con il consorzio volontario per il riciclo del PET, la Dasti e l'App My Cicero. A presentare il progetto sono stati il sindaco Salvo Pogliese, il presidente dell'AMT Giacomo Bellavia e l'assessore comunale all'ecologia e ambiente Fabio Cantarella. È un bellissimo progetto, ha dichiarato il primo cittadino etneo. Catania è la seconda città d'Italia ad averlo realizzato. L'iniziativa ci consente di rispettare l'ambiente e al tempo stesso i cittadini potranno ottenere un biglietto per il trasporto pubblico locale. Complimenti ad AMT e alle aziende private che hanno partecipato. Catania, dice il sindaco, è sempre più città europea sul tema della mobilità sostenibile e ne siamo felici ed orgogliosi. Il meccanismo di funzionamento della consegna dei recipienti è semplicissimo. Con l'ausilio delle app AMT, My Cicero e CoriPet, si dovrà inserire le bottiglie vuote, ma solo quelle in PET, all'interno delle macchine ecocompattatrici fornite in comodato d'uso gratuito da CoriPet, presenti oltre che alla stazione, in piazza Borsellino e nelle aree di parcheggio AMT di Fontana Rossa, due obelischi, Nesima e Sanzio.